C'è un nuovo incubo all'orizzonte che tormenta i proprietari immobiliari in Italia. Qualche settimana fa il Parlamento Europeo ha dato il primo via libera alla direttiva sulle case Green. Il punto è che questa direttiva sta sollevando un mare di polemiche e spaventa molte famiglie. Infatti pare che a partire dal 2030 ci sarà l'impossibilità di vendere o affittare l'immobile che non sarà a norma. Secondo diversi esperti, questi provvedimenti potrebbero creare una bomba nel mercato immobiliare. Invece secondo Giovanni Sabatini, che sarebbe il direttore dell'associazione bancaria italiana, il rischio è che si arrivi a un blocco dei mutui. Tra poco capiremo perché. Ma che cos'è effettivamente questa direttiva sulle case Green? Perché sta sollevando tutte queste preoccupazioni? E soprattutto, dobbiamo veramente allarmarci? Parliamone subito insieme. Come tutti noi sappiamo, il problema dei cambiamenti climatici è un qualcosa che riguarda tutto il mondo e che ci preoccupa in prima linea. Per questa ragione, molti stati si stanno muovendo per passare ad un ecosistema Green. La direttiva sulle case Green è un pacchetto di norme proposto dall'Unione Europea per stimolare la costruzione di nuovi edifici a emissioni zero e per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di ridurre i consumi e le emissioni di gas serra in tutto il parco immobiliare dei 27 paesi membri. È stato scoperto che gli edifici sono il settore più energivore in Europa. Consumano infatti il 40% dell'energia e sono responsabili del 36% di tutte le emissioni di gas serra in atmosfera. Scavando più a fondo nella direttiva sulle case Green entro il 2050 si punta ad arrivare a tutti i edifici residenziali ad emissioni zero. La prima fase sarà quella di arrivare ad una classe energetica E entro il 2030 e ad una classe energetica D entro il 2033. Per chi non lo sapesse, la classe energetica è quel dato che permette di capire quanto consumi un edificio oppure un'abitazione. Può andare da un A che sarebbe la classe migliore fino ad una G che comprende la classe peggiore. In realtà la classe migliore comprende tutti gli edifici che sono a emissioni zero. Comunque per fortuna gli edifici storici, artistici, architettonici sono esenti da tale normativa. Infatti è impensabile vedere il cappotto sulla Basilica di San Pietro. Comunque il fine di questa direttiva è buono perché porta ad una riduzione delle fonti fossili porta ad un miglioramento per quanto riguarda la povertà energetica e l'inquinamento. Il punto è che attuare questa direttiva sembra essere molto complicato soprattutto in Italia. E adesso cerchiamo di capire perché. Il 74% delle abitazioni italiane quindi parliamo di 11 milioni di abitazioni si trova in una classe energetica inferiore alla D. Quindi parliamo di una F e di una G che sono le peggiori. Ciò significa che oltre due casi su tre dovrebbero essere ristrutturate e riqualificate. Il punto è che non ci sono tante persone che hanno abbastanza soldi da permettersi di installare il cappotto di cambiare la caldaia con una caldaia a condensazione di installare i pannelli fotovoltaici oppure di cambiare gli infissi. Inoltre lo Stato dopo la traumatica esperienza con il super bonus 110% non so se questa volta riuscirà a sollevare i cittadini da questo gravoso onere. Infatti si parla di una spesa per appartamento che potrebbe arrivare fino a 60.000 euro invece per le villette indipendenti fino a 120.000 euro. Insomma non parliamo di bricioline ma oltre a questo problema ce ne sarebbe un altro che coinvolge direttamente le banche. Questa direttiva potrebbe portare le banche a rifiutarsi di concedere mutui ipotecari a tutte quelle persone che vogliono acquistare immobili in una bassa classe energetica come ad esempio nella classe energetica F oppure G. Questo perché? Perché come tutti noi sappiamo le banche sono proprietarie di immobili pignorati a tutte quelle persone che non hanno pagato le rate del mutuo. Il punto è che questa direttiva prevede che le banche debbano venire incontro alle spese per migliorare le prestazioni energetiche di tutti quegli immobili che sono coperti dai mutui ipotecari. In realtà per le banche si potrebbe creare un doppio effetto. Da un lato ci sarebbe la possibile svalutazione delle garanzie acquisite dalle banche per la concessione di mutui ipotecari ma dall'altro lato ci sarebbe anche una minore ricchezza che potrebbe rendere più difficoltoso per imprese e cittadini accedere al credito con conseguenze sulla crescita economica. Ora cosa penso io di tutto questo? Una cosa positiva da prendere in considerazione è che questa direttiva non è ancora definitiva ma potrà subire delle modifiche. Infatti vari stati membri dell'Unione Europea potranno attuare delle modifiche ad hoc magari senza discostarsi troppo dal testo originale in base al proprio patrimonio immobiliare e in base alle proprie risorse economiche per evitare di creare troppo scompiglio nelle casse dello Stato. Inoltre se anche tu vivi in un immobile che si trova in una classe G oppure F non ti devi preoccupare perché molto spesso per migliorare la propria posizione energetica basta sostituire la caldaia con una caldaia magari a condensazione oppure sostituire gli infissi. Inoltre io sono sicuro che nei prossimi anni lo Stato verrà incontro ai cittadini con degli incentivi fiscali ad hoc altrimenti senza delle agevolazioni fiscali adeguate per l'Italia sarebbe impossibile riuscire a venire incontro alle direttive dell'Unione Europea. Già un'agevolazione del 70-75% dell'intero importo per la ristrutturazione barra riqualificazione sarebbe abbastanza e sarebbe opportuno per le nostre tasche e anche senza rischiare di creare troppo scompiglio nelle casse dello Stato. Insomma fammi sapere tu cosa ne pensi di questo cataclisma che si sta generando attorno al mercato immobiliare. Sei per caso preoccupato? Io per il momento no, non bisogna fasciarsi la testa prima di romperla. Aspettiamo e vediamo veramente che cosa decideranno e poi potremmo prendere i provvedimenti giusti per la nostra personale situazione. Per oggi è tutto, grazie per aver visto fino alla fine questo video. Ti saluto, ti mando un grande abbraccio e ci vediamo. Ciao!